Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, secondo appuntamento con la review gameplay dei Toz della Bundesliga Dopo aver visto quei tre campioncini di Goretzka, Lewandowski e Sancho, oggi tre meno big boys, ma comunque giocatori molto validi, chi più chi meno Andremo infatti a vedere Coman, Kimmich e il buon Sabitzer, tre giocatori che anche rapporto qualità-prezzo sono molto interessanti In particolare Sabitzer, ma lo vedremo più avanti, quindi come al solito mettetevi comodi, partiamo con il recapino statistico E poi le clip registrate durante la Weekend League di questa settimana Il primo giocatore che andiamo ad analizzare è proprio Coman, 1,79m, normale e basso, quindi un work rate un po' ambiguo è il suo Piede destro, 4 di skill e 3 di piede debole, e già qua diciamo storco un po' il naso Perché 4 di skill sapete che è un parametro al limite, mentre il 3 di piede debole è un qualcosa che è veramente un po' limitante Diciamo che questo è una sorta di salà, possiamo dire, un salà della fascia sinistra Per quanto riguarda le statistiche abbiamo parametro di velocità sensazionale Potenza tiro 95 e finalizzazione 90 vi devo dire un po' me, perché non l'ho trovato questo gran finalizzatore implacabile Beh, i passaggi, molto agile, anche se quel 95 mi sembra un po' eccessivo perché comunque lo andiamo a equiparare a un body type Comunque discreto, visto che non è bassissimo come giocatore Devo dire, io l'ho provato ovviamente da esterno, si speed boosta bene, il rifinitore lo fa discretamente Se gli dovessi dare un voto gli do un 7, anche nel rapporto qualità-prezzo Però quel 4 di skill e quel 3 di piede debole è un qualcosa che purtroppo non riesco proprio a farmi andare giù Comunque per un giocatore che costa un 300k Vi ripeto, interessante, comunque, però non un fuoriclasse Non un giocatore, diciamo, che vi svolta il vostro account sotto questo punto di vista Secondo giocatorino provato è Kimmich Kimmich ha alto normale, è un metro e 76, ha 3 di skill e 4 di piede debole Già qui, ancora una volta, diciamo, non mi va proprio a genio quel 3 di skill Visto che almeno un tacco-tacco, una crocchetta in mezzo al campo vorrei frarla in maniera cristiana E Kimmich non me lo permette È un giocatore che ho pagato 700k Sta bene o male andandosi ad assestare su un prezzo umano Quindi questo sicuramente gioca a suo favore 7 partite, 3 assist Devo dirvi la verità, di Kimmich vedrete anche dopo non tantissime clip Questo perché? Perché l'ho trovato un po' impalpabile Un po' come se Kimmich ci sia, ma non ci sia in realtà Faceva un po' quello che voleva Dovevi stare sempre lì costantemente a dire Kimmich, vieni qua, vedi che zio ti devi piazzare lì La palla la devi recuperarla, la devi prenderla, la devi smistare Quello che invece mi è piaciuto è che comunque è molto aggressivo Quindi se lo andate ad attaccare all'avversario si attacca bene Risente magari un po' di quella forza 81 Ma col bari centro-basso comunque sposta bene gli avversari Quello che pure ho apprezzato tanto è il fatto che sia agilissimo Soprattutto con la palla al piede E questo vi permette di poter acquisire delle azioni importanti Andando appunto a fare quei classici micromovimenti No, sinistra-destra-destra-sinistra Che vi permettono di spaisare quelli che sono i vostri avversari E mandare in porta i vostri compagni Un voto complessivo per questo Kimmich è un bel 7,5 Devo dire la verità Ripeto, lui sicuramente può cambiare magari l'aspetto del vostro centrocampo Diciamo è una specie di canteva È un cante più alto e probabilmente più bustato Però diciamo un cante degli altri anni Le versioni quelle diciamo high graded, belle pompate Questo qua è un simil Se vogliamo fare un paragone A concludere invece questo episodio abbiamo 3 di skill e 4 di piede debole per lui Anche qua quindi stesso identico problema per Kimmich Vedete stesso proprio rapporto per quanto riguarda abilità e piede debole Alto alto, 1,78 Ma questo sabitzer cosa ha dalla parte sua? Ha dalla parte che costa 2 spicci L'ha pagato 195.000 crediti E mi ha fatto da Cicino Un 4-4-2 15 partite, 7 gol e 7 assist Di fatti questo Che fa? Palla al piede è molto buono Molto agile palla al piede Nonostante quello 84 Secondo me sia un po' fake Si muove bene con le L2 È aggressivo e recupera bene i palloni Smista bene perché ha degli ottimi passaggi Finalizza bene perché ha 99 di potenza tiro E 91 di finalizzazione Quindi tanta roba Ha 92 di controllopalla e 97 di reattività Quindi sia a rispondere a quelli che sono i micromovimenti avversari Sia a farli su lui Diciamo che se la cava discretamente bene Questo Marcelito Sabitzer Che tra l'altro ha giocato nel 4-4-2 Senza rimani dietro Quindi con licenza di uccidere E l'ha fatto molto bene Devo dire la verità In particolare anche in un paio di partite clutch Le ha sbloccate lui Quindi vedrete Vedrete in quelle che sono le clip che ho registrato Che Sabitzer è veramente un bel giocatorino Lui rapporto qualità prezzo e tutto quanto Gli do invece un bel 8 Perché insomma veramente Per quello che costa Peccato solamente vi giuro per quel 3 di skill Se avessi avuto 4 sarebbe stato un voto 9 Veramente pieno 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 E strameritato Passiamo subito a vedere però quelle che sono le clip registrate della VL E partiamo subito dal primo giocatore Che è proprio Comand Comand che vedete in questa azioncina qui Sull'out di destra per l'appunto E andiamo a testare subito lo speed boost Vedete che lo fa veramente bene Lascia qui sul posto Mendy con questo scatto bruciante Quindi sicuramente lo speed boost di Mendy Di Comando lo andiamo anche a rivedere È un qualcosa che mi è piaciuto tanto Ricordo che per fare questo speed boost Trovate il tutorial sul canale E comunque dovete mettere il giocatore sul suo piede forte Quindi sia a destra sulla fascia destra E sia a sinistra sulla fascia sinistra Andiamo avanti E andiamo a vedere un'altra giocata di questo franchise Vedete qui all'interno dell'area di rigore Tutta una serie di movimenti Prima il tacco tacco Poi la finta Poi il drag back Poi un cambio di direzione Palla portata sul sinistro Tiro ad incrociare proprio col mancino Che fulmina il portiere Io onestamente direi Nonostante questa sequenza qua Di non farvi gettare il fumo negli occhi Perché sì ok Però non è che abbia Insomma fatto questa giocata fenomenale Alla fine è andato un po' anche a vuoto Il difensore avversario Quindi non è che stiamo parlando Di una trottola agile Come appare sulla carta È agile ma Non fino a questo punto Qui ancora una volta Coman in azione E in questo caso Ci sono dei piccoli problemini Per Coman Perché andiamo a vedere che cosa succede Io costruisco un'azione perfetta Coman vado poi a costruire Quella che è la situazione Di tacco tacco Vedete Vado a liberarmi di quello che è il diretto Marcatore Incrocio in questo caso Con il piede destro Che è il piede forte di Coman E mi prende palo Qua è una situazione Che invece deve andare Necessariamente in porta Cosa che invece accadeva Prima con Sancho Nel video di ieri Se vi ricordate Sancho questi gol qui Li faceva tutti Ma la cosa brutta di questa azione È il fatto che la pala Si sia alzata a palombella Ma ha fatto veramente Un po' triggerare Qua vedete ancora una volta Lo speed boost E la resistenza di fisico Di questo Coman Che addirittura resiste A Ternandez Raga Insomma Ernandez Sappiamo tutti Che tipo di giocatore è Cerca di dargli inaculata Coman resiste Arriva all'interno Dell'area di rigore Guardate Tutta una serie di giocate Lo porta al bar Vedete che è agile Ma non così agile Ecco sotto questo punto di vista Poi purtroppo Il campo finisce Vengo bloccato Passiamo avanti E vediamoci invece Qualche piccola sequenza Di chimici Vi ripeto Ne saranno poche Perché l'ho visto Un po' pascolante Il nostro Joshua Qui palla al piede Per farvi vedere Come è bello bello agile Vedete si gira E si rigira su se stesso Destra a sinistra Per andare a servire Poi dal glish Vi ripeto È veramente Molto valido E non sottovalutate Il fatto di poter fare Questo tipo di giocata Con il centrocampista Perché tutte le azioni Offensive dovrebbero Nascere così Ovvero con gli attaccanti Che fanno da riferimento All'interno dell'area di rigore E il centrocampista Che cerca di servirle Al momento giusto Quindi è veramente Un qualcosa di fondamentale Qui vedete Che io sto controllando In realtà Sull'auto di destra Sancho Vedete qui Delle scarpine rosse Sono proprio quelle di Chimic Che mi va a fare Una chiusura automatica In questo caso Pazzesca Andandosi a frapporre Tra quello che è Il ricevitore di palla Che è in questa zona In maniera automatica Sfruttando quella che appunto Il suo parametro Di aggressività Quindi qui La giocata da parte Di Chimic È sicuramente Molto molto buona E mi è piaciuta Però vi ripeto Alla fine Poco altro Sotto questo Sotto questo punto di vista Da parte di Chimic Non sono riuscito A cogliere Tutta questa sua Incisività Almeno in queste partite Di test Invece qui Sabitzer Guardate che bel movimento Che fa Perché io prima Stavo controllando Roberto Carlos Sabitzer Mi continua la corsa Vedete Io prima lo controllavo Poi passo su Carlos Lui mi continua la corsa Si frappone Su quella che è la linea Di passaggio E va a recuperare Questa Questa palletta Qui Rilanciando poi L'azione Qui Bella giocata Perché palla dentro Con Neymar Ne apprezziamo Tutta quella che è la sua agilità Guardate qua Finta di tiro di prima Palla immediatamente Disponibile In questo caso Sul piede Mancino E la palla si va A insaccare Questa non rende una bella giocata Una giocata da punta Invece l'ha fatta Sabitzer Che è praticamente un mediano Qui ancora una volta Vedete come io stia controllando Goretzka E con Sabitzer Poi vado a fare Questo recupero Piazzandomi Sulla linea Dei passaggi E sfruttando le sue Ottime intercettazioni Non le prendete per banali Ragazzi Perché spesso e volentieri Vengono trollate Ste azioni Se il giocatore Non ha un parametro adeguato Non ha una determinata fisicità Qui invece vi faccio vedere Palla al piede Guardate come si muove bene Sabitzer Tacco tacco Gestisce Suola Movimenti E contro movimenti Su se stesso Che sono veramente Molto molto validi Vedete che vi permettono Di poter spaziare per bene All'interno del All'interno del Del campo Qui ancora una volta Sabitzer In veste di Assisme Come potete vedere qui Con questo passaggio Che non era banale Vi assicuro Non era banale Esterno Per Kenny Dalgrish Che si ritrova poi Davanti al portiere E finalizza l'azione Veramente Un bel Del giocatore Marcellito Sabitzer Probabilmente Diciamo Quello che più Mi ha convinto Anche in termini Rapporto qualità Prezzo Di questo Gruppone Ragazzi Come al solito Fatemi sapere nei commenti Se avete provato Questi giocatori Avete intenzione Di provarli Vi ricordo che in descrizione Trovate l'info Per i live giornali Sulla piattaforma Viola Un salutone Al vostro Riberowski E ci vediamo domani Ciao ragazzi